bene raga dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video ebbene sì è in arrivo a napoli il loro mai sicuro acquisto il calciatore messicano irving losano 24enne esterno d'attacco che gioca prevalentemente a destra del psv edome c'è stata una foto sui social che è stato preso da lui un jet privato che nelle prossime ore in tarda serata porterà in italia losano e domani ci saranno le visite mediche di losano molto probabilmente a villa stewart e il tweet dell'ufficializzazione di questo acquisto questo è un giocatore che a me piace tantissimo lo ripeto calciatore di nazionalità messicana che ha fatto già in circa 35 partite 9 gol in nazionale a 24 anni messicano prelevato del psv in dove per 42 milioni di euro a lui vanno 4 milioni e mezzo di euro per cinque anni più bonus un grande acquisto è un esterno d'attacco gioca prevalentemente a destra ma può giocare anche a sinistra e secondo me potrebbe addirittura giocare come falso 9 come già giocato per un campionato due stagioni fa vi ricordate dris mertens per l'infortunio che c'era stato in quel campionato di rikadius milic questo è un giocatore che a me piace tantissimo in totale nelle psv in dove tra campionate champions league ha fatto in due stagioni praticamente ha fatto 83 presenze e ha fatto 45 gol veramente numeri veramente molto importanti per questo giocatore che lo ricordo nella scorsa c'è anche usì in sei partiti ha fatto quattro gol a grandissime giocate addirittura riesce a fare anche qualche bel gol di testa è molto molto veloce soprattutto determinante nelle ripartenze quanto prende palla al piede a una velocità veramente ipermonica ricorda molto il nostro lavezzi per questo è molto ma molto più prolifico sotto porta quindi molto molto fa molti molti più gol molto esplosivo veramente un grande di blig salta veramente molto in maniera molto netta l'avversario questo è veramente un grande acquisto sta arrivando in italia è già in volo nelle prossime ore arriverà in italia domani le visite medica villa stuart e molto probabilmente già domani ci sarà da parte della società l'ufficializzazione di questo vero amico di questo grande grande talento che alzerà di molto il valore qualitativo della rosa del napoli mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al canale sempre comunque forza napoli una buona serata a tutti la vostra grande capitale napoli ciao io